Coltiva droga nell'orto di casa ai fini di spaccio. Per questo motivo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato Emanuele Modica, commerciante di 35 anni a Modica. L'attività dei militari dell'arme si è sviluppata a seguito di ricerche sul territorio che ha portato a nutrire sospetti sul giovane già attenzionato in passato. I carabinieri, insieme all'unità cinofila del nucleo di Nicolosi, hanno svolto una perquisizione domiciliare nella zona della via Sorda-Sampieri ed hanno rinvenuto circa 400 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio nella movida modicana e 19 piantine coltivate con cura dal giovane nell'orto di casa. Il fiuto del cane dell'arma ha permesso di rinvenire lo stupefacente che si trovava celato all'interno di un armadio dell'abitazione ben nascosto. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato 5.000 euro circa. L'uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione del PM della Procura di Ragusa in attesa di giudizio.